E' una questione di profondità e di curve. Lo vede quello? Questo? E' una specie di abito di civile. Sei tu? Nelly? No, io non credo. Ormai ho sviluppato un certo e sesto senso a capire con chi sto parlando e con chi invece no. Che cosa ho fatto? Mi hai iscritto per un appuntamento fuori programma, due giorni di fila. Ci sentiamo sopraffatti a una normale amministrazione. Io credo che Samuel o Enric o Orwell o Jade abbiano avuto per un attimo la luce e mi abbiamo scritto. E invece tu sei qui per dirvi che è tutto a posto. Io l'ho scritto. Posso parlare con qualcuno di loro? No. Ho detto a tutti che avrei preso io la saluta con lei oggi, è possibile. Te lo chiedo di nuovo, con che sto parlando adesso? E' dottoressa Fleccia non sta parlando con Barry. Non sembra affatto Barry. Barry è un leader estroverso. Lei infatti lo so. Ti dico la mia ipotesi, basandomi sulle 23 personalità che vivono nel corpo di Kevin come me ha detto Barry. Io credo di star parlando con Enric, che però è stato bandito dalla luce da un po', perché tra le altre ragioni ha questa certa propensione a guardare i giovani uomini nude che danzano, pur sapendo che è sbagliato, pur avendo combattuto con scarsi risultati questa propria tendenza. Ma io credo di avermi incontrato. E l'ho creato perché, da quando sei qui, hai spostato ben due volte il piatto dei cioccolatini e io so che hai un disturbo ossessivo compulsivo. Lei è molto facile. Lei è veramente facile, veramente complimenti. Però, vabbè, io non sono tenuto. E penso anche che tu e Patricia siete stati banditi dalla luce perché... Patricia e Dennis sono molto instabili. Io non sono Dennis. Avete avuto il controllo adesso? No. Gliel'ho già detto. Dottoressa, io non sono Dennis. Devi perdonarmi, eh. Beh, è il mio lavoro metterti alla prova, quindi... Poi ormai sai, no? Sai bene che ho avuto di certo idea, so come il mio lavoro vuole dire la propria vita, quindi... Vabbè, mi chieda... Mi chieda qualcosa sulla moda. Oppure... Oppure... Vi vediamo. ... Ha visto? Io non sono Dennis. No, vuole chiedermi qualcos'altro. Questo maglione, vedi? Il cotone è di tre stagioni fa. Ma... Dai. Adesso l'ho convinta. Andiamo avanti, su. Allora... 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 Allora...